Si ferma la crisi del lavoro in Italia. A marzo il ricorso alla cassa integrazione è esploso, più 22% da febbraio e più 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dall'inizio del 2013, secondo i calcoli dei sindacati, ci sono 550.000 lavoratori circa in più che hanno subito un taglio del reddito. Ormai il fenomeno della cassa integrazione è così ampio che 11 lavoratori su 100 conosceranno nel 2013 questa drammatica esperienza, dice la Will. I settori maggiormente in crisi sono l'artigianato che non riesce a penetrare i mercati internazionali, il commercio che soffre per il crollo dei consumi e l'edilizia come conseguenza dello stallo del mercato immobiliare. Le regioni dove è maggiore ricorso a questo ammortizzatore sociale sono Lombardia, Piemonte e Veneto. I sindacati temono che le risorse stanziate per la cassa integrazione non bastino e per questo il 16 aprile hanno organizzato una manifestazione nazionale per sensibilizzare governo e Parlamento. E anche oggi la cronaca ci racconta una tragedia legata al lavoro. Un operaio 38enne nel Frusinate è stato trovato impiccato nella sua abitazione. È drammatico il bilancio che il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi fa della situazione. 50 giorni senza un governo in carica con un pieno mandato hanno causato un danno pari all'1% del PIL. Oggi parlare di crescita sembra un azzardo se non un miraggio, dice Squinzi. Non un indicatore regge o ci conforta, fatta eccezione per l'eroica prestazione di alcuni settori sui mercati internazionali.